Così Larry, Johnson & Johnson potrebbe scomparire. E questo che effetto domino ha sulla nostra vaccinazione? E soprattutto, se anche lo fai, ti protegge dalla forma grave, che era la cosa che diciamo di tutti i vaccini, guardate che comunque, se anche lo doveste prendere, ti protegge dal decesso, ti protegge dalla forma più grave. Qua ti protegge 8 su 10 alla forma più grave. Vi è un range anche più ampio, diciamo che è anche più di 8 volte su 10 dalla morte, non dalla forma più grave. Quindi, attenzione, dalla morte protegge con una percentuale sicuramente più alta. Ma meno alta di AstraZeneca? Molto vicina ad AstraZeneca. Ora, è chiaro che io non credo mai da medico al 100%. Anche se viene detto il 100%, diciamo che il 100% in medicina non esiste. Figuriamoci un po' meno del 100%. Figuriamoci se dicono 80%, sarà meno dell'80%. Cosa può succedere ora con ovviamente il vaccino Johnson & Johnson? Sono sicuramente bloccato in questo momento. Attendiamo che si pronunci l'EMA, in primis, perché abbiamo un ente regolatorio europeo. Il numero di casi è un numero estremamente basso, perché un caso ogni milione è simile al numero di morti che si hanno in Italia per i mezzi di contrasto per la risonanza magnetica. Anzi, le dirò di più. La risonanza magnetica è uno su un milione. Quando fai un'attacca col mezzo di contrasto per l'attacca, è uno ogni 200.000 attacca, fra le 200 e i 500.000 attacca. Quindi è un numero veramente basso, comparato a quello che rutinariamente facciamo. L'attacca l'abbiamo fatta... Cioè, io l'ho fatta un paio di attacca su me stesso, ed è un rischio sicuramente più alto. L'attacca la fai quando te lo dice il medico. L'attacca la fai non solo quando te lo dice il medico. Io sono d'accordo con lei, i numeri sono quelli che dice lei. Sto dicendo che non sempre la statistica convince il singolo. Perché uno dice sì, è uno su un milione, ma sono io che sto andando là, sono uno e sto andando là. Guardi, l'attacca mi permette di sentire un po'. L'attacca non la fa solo quando te lo dice il medico. Ci sono dei pazienti che vengono dal medico e ti dicono voglio fare l'attacca, e spingono affinché quell'attacca venga segnata, senza sapere quelli che sono magari i rischi nel momento in cui viene iniettato il mezzo di contrasto. Qui c'è il professore Andreoni, che è un eccellente clinico. Noi festeggiamo le nozze d'argento per un esame fatto con lui 25 anni fa di malattie infettive. Adesso non voglio svelare l'età. Ma è un clinico ottimo e sa perfettamente che molti pazienti vengono e ti segnano l'attacca e magari non hanno, ne fanno due senza averne bisogno. Senza averne bisogno. Sa perché le chiedo questo? Gli effetti pratici del mix tra paura, blocco delle...